Noi siamo pronti! Formata da Torosidis, Manolas, Mapu, Edo Lebas, centrocampo con Pjanic, Keita e Raja Nainggolan davanti, Giaici, Tozzi e Gervinio. 26 esatti sul cronometro, Parma 0, Roma 0, battuta da Torosidis a destra per Sedou Keita, quindi Mapu. Cerchio del centrocampo per Raja Nainggolan, palla in avanti per Tota e partitori Gervinio, anche Ljajic, palla dentro per Ljajic, R pueda! Ljajic, 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 adem, 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 Ljajic! Parma 0, Roma 1. Conto Pjanic per questo calcio di punizione, 20 uomini in barriera praticamente, conto Pjanic a battere, fischia ora Mazzoleni, vai Mire, va Pjanic con il destro, go, 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 mamma mia Mire, mamma mia Mire. Mamma mia che gol che vanno Mire, un gol pazzesco, barba 1, Roma 2.